E quale metodo migliore per iniziare un video di GTA, se non con una ricompensa da un milione di dollari. Grazie GTA, alla grande eh, sempre stima totale. Eccoci qui, finalmente siamo in GTA, considerato che ci ho messo, e non sto scherzando, mezz'ora per entrare, perché mi entrava, c'era, come si dice, c'era il load screen infinito, che è un problema che persiste, e ogni tanto c'è, e l'unico modo per risolverlo, tra l'altro, l'unico modo per ovviare a questo problema è l'ho trovato ora su internet, e accedere prima alla storia, e poi quando sei online con il tuo personaggio della storia, andare nel menu e dire portami online, solo così fai in fretta, e ci mette più o meno 3-4 minuti, altrimenti davvero, cioè io ho aspettato mezz'ora. E tutto questo oggi, ragazzi, andremo a fare delle missioni, io pensavo, andiamo al bunkerino, abbiamo la nostra Insurgent Pickup, e tanto che non facciamo delle missioni, secondo me è il caso di rimediare, anche perché, semplicemente, dobbiamo aumentare la nostra efficienza con le ricerche, perché sì, possiamo spendere tutti i soldi che vogliamo, ma se non sblocchiamo le ricerche, io non posso comprare determinate cose. Una delle cose che voglio comprare è decisamente il Juggernaut, che costa mezzo milione di dollari, quindi non poco, e però ti rende, non è che ti rende immortale, sto parlando di immortale, ma non è vero, ti rende un cazzuto, un cazzuto penso sia il termine scientifico per descrivere il kit del Juggernaut, che poi non si chiama neanche il kit Juggernaut, c'è un nome tutto strano, vabbè, poi vediamo. Hai visto? Siamo completamente al secco, non abbiamo merce, per né aumentare il nostro profitto annuo, né le nostre ricerche, quindi bisogna, eh sì, bisogna prendere delle scorte. Io direi, facciamo le ste due missioni, che ci fanno la differenza, poi vedi, sono tutti qua, io li pago, ma non fanno niente questi. La missione di oggi consiste nel recuperare una macchina un po' particolare, perché ho detto che c'è tipo una torretta, dovrebbe essere simile al mio insurgente in realtà, solo che il mio è fighissimo, i celli è gialli, quindi è insuperabile. Questo che devo andare a prendere, è, diciamo, di un club, di un altro motociclo, il club, di un'altra gang rivale, e devo ammazzare tutti e prendere l'edificio, il coso in oggetto, va bene. Mi sa che il prossimo, ehm, veicolo che prenderò, non sarà l'insurgent, bensì prenderò probabilmente o l'oppressor, oppure direttamente la deluxo. Così volo a destinazione e ci mettiamo neanche mezzo secondo. Ok, siamo, siamo arrivati in teoria, voi vedete gente, ma scusa, eh, io passo di qui così, ho la scorciatoia, faccio lo che mi rompo le scatole, ti dirò che, ah sì, ok, vedo gente. Sono familiare con questo tipo di missione, ragazzi. Figlio il coso e spara a tutti, mandiamo via la gente, ok, mandiamo il nostro avicolo al deposito, così nessuno poi ci dà fastidio. Allora, loro non lo sanno che Surry è in agguato. E boom, morto, morto, probabilmente c'è altra gente perché non c'era solo questa macchina. E schere, ok, e due sono morti, e tre sono morti, c'è questo davanti non l'avevo visto, quello indietro, morto. E in fondo ce ne sono un paio, ammazziamoli, c'è ancora qualcuno? Ti ho visto là dietro, non è vero, non ti ho visto, ma ti ho visto dalla minimappa, apertura. Oh, 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 chi è che spara? Ah, siete in due. Allora, io ti direi, ammazziamoli tutti, oh, un altro lì, airshot per lui, e dovrei aver ucciso tutti? Perfetto, ma prendiamo gli soldi da terra, perché sprecarli? Lo so che sono neanche 30 dollari a botta, però potrebbero risultare utili. Poi ci sono anche gli altri. Chi è che spara? Arcavacca, con la torretta addirittura. E tu sei un po' infamello? Va bene, riportiamo questo brutto coso a casa. Eh, sì, potrei essere leggermente in contromano, ma non so se ci interessa. Arcavacca, mi hanno già levato a metà vita. Posso mangiare gli snack mentre sono al volante? Sì che posso, è alla grande, mangiamoli. Recupero la vita e siamo tutti contenti. Purtroppo di Meteorite, che è lo snack migliore, mi avete detto nei commenti, ce ne posso avere solamente 5 alla volta. Quindi non è tutta sta comodità. Cioè, è comodo perché recupero la vita, tipo 3 snack ho recuperato metà vita. Con 5 recupero cosa? 3 quarti. Non è male, eh, anzi è molto buono. Però, eh, ti dirò. Avrei preferito avere più snack utili. Ma è che costano anche dei soldi. Però, eh. Cioè, ci sono i motociclisti che stanno cercando di inseguirli, ma che vogliono fare? Li ho abbattuti una volta, una volta e poi si sono arresi completamente. Vai, portiamo a casa questo e passiamo alla seconda missione. Dai, una missione, una cagata di missione così, mi ha dato quasi metà. Magari fai la missione più difficile del mondo e ti dà un decimo di barretta. E a volte non lo capisco, ragazzi, non lo capisco. C'è una cosa che vi dirò. Mi hanno detto dei fan che ho incontrato a Padova durante una fiera che, in teoria, ci sarà un nuovo DLC molto particolare in cui si potrà comprare un treno. E io non vedo l'ora. Se è possibile, volo tantissimo. Lo trasformo nell'Oriente Express e vogliamo tanto. Cioè, non è che vogliamo, andiamo sulle rotaie. Però avete capito. Direi, chiamiamo il mio meccanico. No, 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 ho sbagliato. Chiamiamo il mio meccanico. Non ce la faccio digitare. Oh, voglio il meccanico. Chiamiamo il meccanico perché la prossima missione è... si parte da Paleto Bay e devo andare su uno yacht. Quindi, secondo me, potrebbe servire... un elicottero? No, l'elicottero non ce l'ho neanche. Prendiamo la Delacca e vogliamo. Dov'è sto posto? È lontano? Eh, 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 ti direi anche di sì. È tutto dritto, però allontanuccio. Non investitemi, non investitemi, non investitemi. Grazie, grazie, a posto. Certo, in mezzo alla strada farlo spawnare non è il massimo, ti dirò. Però va bene uguale. Oh, come un po'. Vogliamo la nostra Delacca rosa salmone. Imperdibile. Iniziamo l'atterraggio perché vedo le barche che devo prendere. Anche se in realtà potrei andare direttamente sullo yacht a questo punto. Vengo qui, poi prendo la Delacca, atterro sullo yacht. Facciamolo, che me frega. Per lustra lo yacht, sì, sì, certo. Scusa, se con le imbarcazioni non devo destare sospetti. Con una cacchio di macchina volante, cosa vogliono farmi questi? Dirottiamo uno yacht con una macchina volante, sì. Visto che non mi sparano, è perfetto, io atterro qua sopra, atterro proprio qui, con calma, sopra lo yacht. Nessuno mi ha visto. È perfetto, ragazzi. Orca vacca. Oh, ma hanno avvistato? Oh, porca vacca. Ok, questo potrebbe essere un problema. Allora, ci sono degli elicotteri. Vi sento lontano, orca vacca. Io direi, spariamo all'elicottero, perché qua la situazione non è delle migliori. Stupido buffo. Muori. Mi stanno sparando. Aspetta, finché non mi colpiscono, sono contento. Ma muori. Mannaggia a te. Devi affondare nell'oceano, devi. Oh, oh, non va a fuoco. Muori. Porca vacca. Quanta vita c'ha, sto coso. Sto finendo le munizioni della carabina. Ok, morto uno. Ok. No, addosso a me, no, addosso a me. Ok, in mare. Perfetto. Ora, con calma. C'è qualcuno qui? Guarda quanta gente che ci sta. Tutti morti. Tutti morti e felici. Perfetto. Ma che raga, ma che missione v'ho fatto? Che sono atterrato su un cacchio di... Oddio, c'è altre gente qua sotto? Non vedo. Entro forse. Sento insulti, cose, ma non capisco. Ah, insomma, è di qua, è pieno di gente. Bandiera americana, ma questi parlano tutte le lingue, ma non è inglese. La gente... Porca vacca, leggo ad un botto di pallini rossi qua in giro. Orca vacca, che è che spara? Allora, mangiamo un paio di snack, che dite? E diamoci alla pazza gioia. T'ho visto, bello. Morto. Quanta altra gente c'è? Ci buttiamo? Proviamoci. Orca vacca. Stiamo attenti, per favore. Devo trovare le scorte, poi prendo la delaxio e torno a casa. C'è qualcuno qua dentro? O sì che c'è qualcuno? Morto. Orca vacca, col fucile a pompa? No, no. Ho morto. Abbassati. Recupera vita. Inventario. Snack. Vai con i meteorite. Ok, meglio di niente. C'è qualcuno? Stiamo calmi. Io provo a scendere di nuovo, ragazzi, perché qua scorte non ne vedo. Eccole, eccole le scorte. Oddio, non si muove il mouse. No, 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 perché non si muove il mouse? Morite, buffetti. Vedo le scorte. C'è gente che mi spara, però. Se sono solo queste, io me ne vado. Ok, devo consegnarle. Li ammazzo tutti. Orca vacca. C'è gente che spara. Sali qua sopra, veloce. Ok, ragazzi. Io ti direi che globalmente è anche fatta. Nel momento in cui salgo sulla deluxe, posso partire. E chi mi becca più? Eschere, che missione che vi ho fatto. Voliamo via. Eschere. Ah, ah. E chi vi vede più? Buffetti. Mamma mia. Cioè, mamma mia. Che stile. Signori, che stile. Dovrebbero chiamarmi da Enzo Miccio per fare lezioni di stile. C'è solo un problema. C'è un grossissimo problema. Che mi stanno inseguendo con un cazzo di elicottero. Io sono lentissimo con la deluxe. Forse mi conviene andare sulla strada. Orca vacca. Questo è pericoloso. Non l'avevo contato questo. Sparano un casino. Posso esplodere da un momento all'altro. Se non sbaglio l'ho modificata e ci ho messo l'armatura. Che non è una brutta cosa. Però è rischioso. Devo atterrare. Devo atterrare per strada, tipo subito. E farmi questi 5 km a piedi. Vai, vai, vai. Atterriamo. Atterriamo. Sghere. Veloce, veloce. Ok, vado molto più veloce così. Perché è comodo volare. Ma in quanto a velocità, purtroppo... Mi ha affondato una cosa. Ok, devo volare per forza, ragazzi. Non ti schiantare. Mannaggia, piccoli bufetti. Mi ha bucato una ruota. Quindi devo per forza volare ora. Che è rischioso. Ho recuperato la vita. Il problema è che quando inizierà a perdere fumo la delorean qua, la deluxe, potremmo avere un problema. Morca vacca. Vabbè, c'è forza un culo. Passo sotto la galleria così non mi possono beccare. Tanto riesco a volare basso, loro no invece. La galleria, se non sbaglio, è anche abbastanza lunga. Dai che ce la facciamo. Vai così. Ah, buffetti. Che cacchio fate? Ah, uno si è schiantato e si è rotto. L'altro? L'altro si è bloccato e non mi vede più. Purtroppo non posso tornare in modalità... In modalità strada perché ho una ruota bucata. Però sono quasi arrivato, che mi frega. Ma ha visto? Ma ha visto sì. Quasi è esploso. Ti sparo, ti sparo, ti sparo. Tanto ce n'è solo uno. Attento. Ti sparo. Non ce la faccio sparargli. Sta sparando a mozzo però. Mamma mia come ti faccio volare via. Spara. Ora mi schianto sicuro però. Ti riesco a colpirlo e tanta roba. Quasi. Oh, attenti a non andare contro la montagna che sia non proprio bello. Ah bello. Tanto lo so che stai per esplodere tantissimo. Colpiscilo. Ma perché non si schianta sto un famello? Dai che ce la fai. Dai che ce la fai. Manca poco. Settecento metri. E schere. Boom. Boom, 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 boom. Ma è così che si fa. È così che si fa. E queste signore e signori sono delle belle scorte consegnate. Anticonformista che ci dicono prendi la barca. Ma chi la prende la barca? Signore e signori. Noi andiamo con la deluxo. Perché è così che si fa. Ma per questo video è tutto. Io mi ringrazio tantissimo per la visione. Ci vediamo nel prossimo episodio di GTA Online. Ciao a turuturu tutti. Scherzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti.